Allora, siccome il mezzo del cammin di nostra vita l'abbiamo superato, avendo superato i 50 anni, spero di non molto, ma insomma l'abbiamo superato, credo che la frase migliore da ricordare oggi, tra le tante che abbiamo studiato tutti quanti a scuola, è e quindi uscimmo a rivedere le stelle, che in qualche modo chiude l'inferno di Dante e spero chiuda anche presto l'inferno di questo coronavirus in cui viviamo tutti noi. Grazie